Recenziamo la Bull Paddle Ionic Control. Comfort, uscita di palla notevole ed un prezzo molto interessante, dato che parliamo di 180 euro di street price. Sono questi i tre ingredienti della Bull Paddle Ionic Control, una delle nuove pale della collezione Nextline del brand spagnolo. La Control ha una forma rotonda, un bilanciamento medio, la gomma multieva ed un piatto in glafite, mix di fibra di vetro e fibra di carbonio, che regalano una grande facilità di utilizzo e una grandissima uscita di palla. Giocare da fondo campo, anche nelle situazioni più difficili, non risulterà quasi mai complicato. Alzare i pallonetti poi sembrerà la cosa più facile del mondo. A rete la racchetta si difende bene ed è molto agile, il piatto ruvido aiuta con gli effetti e nei colpi dall'alto sa anche regalare quella potenza che magari non ti aspetti da una palla che ha scritto Control sul piatto. La Bull Paddle Ionic Control è una racchetta adatta da un livello intermedio in su, indicata per il giocatore di destra che ama costruire e difendere a suon di pallonetti senza però disegnare la chiusura al momento giusto. Interessantissimo il prezzo dato che parliamo di 200 euro di listino.